Cambia la forma, ma non la sostanza. E' questo il messaggio lanciato dalla Fondazione Banco Alimentare Marche Ollus per la Colletta Alimentare 2020, che quest'anno è costretta a modificare i suoi tradizionali metodi di svolgimento. A causa dell'emergenza Covid, infatti, per salvaguardare la salute di tutti gli operatori, le donazioni avverranno attraverso l'acquisto di card, che successivamente saranno convertite in genere alimentari in base all'importo selezionato. Un impegno puntuale è quello della Fondazione Banco Alimentare Marche Ollus, che nel 2019 ha distribuito oltre 2.300 tonnellate di alimenti a 300 strutture caritative, raggiungendo così 38.000 persone in stato di bisogno. Troveremo alle casse dei supermercati aderenti delle card, che riportano ovviamente il logo del Banco Alimentare, che corrispondono a un valore di donazione di 2, 5 o 10 euro. Mi raccomando, non è una raccolta in denaro, perché il corrispondente di quella donazione sarà convertito in cibo, che ci verrà poi consegnato dalle grandi catene, successivamente noi a nostra volta lo potremo distribuire, come sempre gratuitamente, ai nostri 300 enti caritatevoli del territorio. Noi siamo abituati proprio alla fisicità, all'incontro, alla gratuità del dono, ma anche la card può essere veramente un'occasione di dono, quindi lo chiediamo a tutti e anzi colgo l'occasione per ringraziare tutti i responsabili, i direttori di punti vendita, i cassieri, le cassiere, che in questi giorni si stanno veramente coinvolgendo in prima persona, perché sono loro che ricordano alle persone che fanno la spesa che con la card possono fare un grande dono al Banco Alimentare. Vi ricordo che è cominciata la raccolta il 21 novembre, quindi sabato, e proseguirà fino all'8 dicembre, quindi l'altra novità grande di questa colletta è la durata, è molto più lunga, tutti i giorni potremo donare, ricordiamoci che potremo farlo alle casse dei supermercati aderenti, ma anche online, quindi anche online sul sito del Banco Alimentare, oppure su My Gift Card, troveremo la card per donare al Banco Alimentare. Tenete conto che quest'anno, anche in questa forma così difficile, siccome l'emergenza ha aumentato la povertà, quindi vi chiediamo davvero di essere vicini, di donare, anche se in questa forma, perché davvero l'anno scorso abbiamo raccolto 250 tonnellate di cibo, quest'anno ci auguriamo che questa quantità non diminuisca di molto, perché il bisogno è davvero aumentato. Ricordiamo anche, vogliamo ringraziare tutti gli enti caritatevoli che con noi stanno diffondendo questa nuova modalità. Voglio anche ricordare, perché è una cosa molto bella, che ci sono delle realtà cittadine, come il Giardino di Santa Maria, che ha deciso di dedicare, di donare una parte del ricavato della vendita degli alberi di Natale, che accadrà nella fine settimana del 7-8 dicembre, al Banco Alimentare. Quindi si stanno mobilitando anche delle aziende, delle realtà del nostro territorio, non solo a Pesaro, ma in tutte le marche, proprio per poter davvero espandere questa capacità di dono, perché quest'anno ce n'è veramente bisogno.